Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG7 Basilicata. È crollato un solaio di un prefabbricato in un cantiere edile al nord-ovest di Firenze. Sono immagini agghiaccianti quelle che vediamo. Il crollio è avvenuto questa mattina al cantiere S. Lunga di Via Maritti a Firenze, nell'area dell'ex panificio militare. Una trave di cemento di 20 metri si è spezzata cadendo sul solaio e distruggendo tre piani del cantiere. Un gruppo di operai che si trovava lì sotto è stato travolto. Otto le persone coinvolte. Il bilancio è in evoluzione. Tre i morti accertati, uno dei quali individuato in serata, due dispersi, tre feriti, due gravi, ma non in pericolo di vita. Il bilancio è iniziato. Grazie. Grazie. Per questa edizione è tutto, ci aggiorniamo nelle prossime edizioni, sempre al TG7 Basilicata. Grazie e arrivederci.